Il senatore De Bertoldi. Grazie, grazie Presidente. Io vorrei cominciare da una nota positiva perché penso che sia giusto e doveroso farlo. Ed è il fatto che sia pure con una distanza di tre mesi dalla legge di bilancio 2022 approvata appunto alla fine di dicembre il Governo ha finalmente inteso dare seguito all'impegno che aveva preso con Fratelli d'Italia quando nel DL fiscale venne approvato un ordine del giorno impegnativo vincolante per la legge di bilancio lo voglio ricordare e sottolineare, era un ordine del giorno vincolante per la legge di bilancio per prorogare i termini della rottamazione TER e saldo estralcio. Quindi a distanza di tre mesi il Governo finalmente ha voluto rispondere a questo impegno. Ne prendiamo atto, ne prendiamo atto in modo positivo e quindi è un piccolo importante tassello che finalmente dà una risposta ad oltre 500.000 italiani onesti ai quali si era chiesto di pagare in un mese e mezzo quello che non avevano potuto evidentemente pagare in quasi due anni di lockdown. Dispiace però dover dire che nonostante l'emendamento fosse di Fratelli d'Italia l'ordine del giorno originario fosse un ordine del giorno di Fratelli d'Italia il primo partito presente in questo Parlamento, il Movimento 5 Stelle, abbia tentato di appropriarsi anche di questo sul principale giornale nazionale. È davvero una caduta di stile che non dovrebbe caratterizzare chi fa politica, non dovrebbe caratterizzare chi siede nelle istituzioni. Ecco, quello era un emendamento, lo ha riconosciuto e lo ringrazio ovviamente anche il collega Damiani nella sua relazione. Era un emendamento approvato da Fratelli d'Italia e ribadisco un partito e per di più il primo partito presente in Parlamento se ne è appropriato sul principale giornale economico nazionale. Ecco, veramente dispiace, dispiace perché l'etica e la correttezza, pur nel confronto politico anche più aspro dovrebbe appartenere a ciascuno di noi. Quindi una nota positiva che però viene coperta da un atto di scorrettezza che non abbiamo gradito e ci dispiace e lo ribadisco e lo sottolineo. Detto questo, entriamo nel merito delle vere problematiche. Collega Calandrini, capogruppo nostro in Commissione Bilancio, è stato abbastanza chiaro nel denunciare di fatto come questo decreto di sostegno abbia solamente il nome, ma non certo i fatti o comunque i fatti sono ben pochi. Ci troviamo infatti nel bel mezzo di una tempesta finanziaria dovuta all'articolo 27, al problema dei crediti d'imposta. Cioè il Governo, che già ha mille problemi e lo capiamo, lo comprendiamo, ha mille problemi da risolvere legati alla pandemia, alle crisi politica energetica, alla crisi internazionale che ha aggravato tutte le altre crisi. Ebbene in tutto questo marasma il Governo ha trovato modo anche di mettere in crisi un percorso, quello dei bonus edilizi, che era virtuoso, che tutti noi ritenevamo virtuoso. Lo ha fatto in modo inconcepibile e assurdo. Davvero ribadisco inconcepibile e assurdo. E anche le misure di correzione, individuate poi nel cosiddetto decreto bollette, non sono servite di fatto quasi a nulla. Vedete, io sono abituato anche a parlare per dati di fatto. Mi giungono oggi, in queste ore conferme anche dal mio trentino, di dati, di dati certi. E allora vi posso dire che la situazione attuale, non in una provincia, in un territorio finanziariamente debole, povero, ma in una provincia come il Trentino, che è una realtà consolidata, strutturata, in questa giornata di oggi le principali realtà bancarie hanno esaurito i plafond di utilizzo. Banca Popolare di Sondrio, ITAS, Assicurazioni, Primario Competitor Assicurativo Italiano, Mediocredito, Banca di Credito Cooperativo Verone e Vicenza, Casse Rurali e le altre banche nazionali, Unicredit e Gruppo Intesa, sono in via di esaurimento. Quindi questo è il dato di fatto che testimonia il vostro fallimento. Avete sbagliato nel DL Sostegna, avete fatto un danno irreparabile al sistema e nel DL bollette non siete neanche state capaci di ravvedervi e di rimettere in pista, in modo corretto, il percorso che caratterizza e caratterizzava i bonus e i super bonus. Quello che è peggio, che chi ci rimette di tutto questo, è il Paese intero. Sono le imprese italiane, le imprese di costruzioni, le imprese legate all'edilizia, le società finanziarie che avevano lavorato nella cessione dei crediti. I cittadini che si trovano i cantieri bloccati, che non riescono ad andare avanti e che nella migliore delle ipotesi oggi, grazie ai vostri provvedimenti sottosegratario, si trovano di fatto a dover svendere il credito e quindi a prendere molto meno di quello che lo Stato investe, altro che 110%. Stiamo andando verso percentuali del 60%, del 70%. Quando va bene? Perché nella maggior parte dei casi oggi non riescono più nemmeno a portare a casa un euro. E allora questo dovrebbe chiamarsi decreto sostegni? Qualcuno mi potrebbe obiettare, ma ci sono state le frodi? Certo che ci sono state le frodi, ma dove ci sono state le frodi? Non certo nella misura principe che era il super bonus, perché lì era prevista una misura semplicissima e che di fatto ha retto il visto di conformità. Professionisti o pelegis obbligati all'assicurazione che controfirmando una pratica ne garantivano l'esistenza e infatti pesa nemmeno l'1% la frode nell'ambito del super bonus. Dov'è che le frodi sono avvenute? Dove il governo ha lasciato le porte aperte, come si suol dire, nel bonus facciate? Dove non era presente nemmeno un controllo? Ma io dico, serve il governo dei migliori per prevedere che se c'è un'agevolazione di peso, se ci sono crediti d'imposta dello Stato, un minimo di controllo doveva esserci? E allora vedete perché avete continuato a ostinarvi a intervenire limitando la cessione dei crediti? Non era lì che dovevate intervenire, perché non c'entra niente la cessione dei crediti e lo dimostra la misura del 110%. Voi dovevate semplicemente capire che il credito va identificato all'origine, va tracciato sulla piattaforma finanziaria nei passaggi e va corredato del visto di conformità. Con questi tre passaggi identificabilità, cioè provenienza, particella XY, tracciabilità del percorso di cessione, che quindi può essere infinito se viene mossa su una piattaforma finanziaria. E visto di conformità con questi tre passaggi il governo si sarebbe tutelato, avrebbe tutelato l'erario, avrebbe tutelato i cittadini e avrebbe evitato gli sprechi. Invece cosa avete fatto? Nonostante i fratelli d'Italia con la sua opposizione costruttiva, lo abbia sempre detto, avete detto limitiamo la cessione dei crediti, che non serve a nulla, se non a distruggere una misura. E allora quelle forze politiche che sono al governo e che siedono in questo Parlamento e che io sono convinto che la pensino come me su questo, non basta che lo dicano come lo diciamo noi, perché noi non abbiamo altro mezzo di poter parlare, salvo poi qualche volta che poi si vengono appropriati anche del nostro lavoro. Ma voi siete al governo, voi avete il dovere di far cambiare queste cose, avete il dovere di porre fine a delle misure che le avete distrutte. Le avete distrutte. Allora piuttosto abbiate il coraggio di dire vengono tutte annullate, perché questo sarebbe un atto di serietà, non condiviso, ma un atto di serietà. Non si può ammazzare una misura creandoli degli ostacoli ad arte o addirittura aborigine, perché io credo che ci sia la malafede, aborigine non prevedendo le misure di controllo e quindi determinando quelle frodi che erano prevedibili e che però oggi vi servono per dire no alla moneta fiscale, no all'accessione dei crediti d'imposta. Quindi ribadisco malafede e lo sottolineo. Vado alla conclusione, Presidente, per riprendere anche le parole del collega Calandrini, per riprendere tanti ragionamenti svolti anche da altre forze politiche. Questo decreto sostegni non sosterrà quasi nulla o ben poco. Qui serve, e concludo Presidente in un minuto, una revisione del PNRR. Il PNRR non è più attuale. Serve un PNRR2, oltre alla revisione del PNRR1, legato alle crisi internazionali. Serve uno scostamento di bilancio. Servono politiche energetiche vere. Su questi temi noi vorremmo si misurasse il Governo. Su questi temi saremo felici che il Governo venisse etichettato come il Governo dei migliori. Saremo felici noi dall'opposizione, perché vuol dire che in quel caso il nostro Paese, i nostri concittadini, avrebbero quelle risposte che si meritano. Ma in me, purtroppo, oggi non è così.